Nel giro di questa mattina sto verificando che ci sono scuole nuove, noi siamo passati da diversi anni fa dove il problema delle scuole era la possibilità di fare piccoli lavori per renderle agibili, oggi stiamo parlando di demolizione di scuole e realizzazione di scuole nuove, ovviamente questo grazie al fatto che l'amministrazione precedente è riuscita a reperire molte risorse, grazie ai fondi comunitari e statali, ma è anche grazie all'amministrazione che ha avuto la forza di partecipare a questi bandi e poi riuscire a prendere le risorse, per tutto il resto, dove non facciamo strutture nuove perché ovviamente non da per tutto necessario, stiamo cercando di rendere e mettere soldi per la manutenzione, Già la prima variazione di bilancio che abbiamo fatto fine agosto, prima di agosto, è stata una variazione improntata quasi esclusivamente con risorse destinate per la messa in sicurezza o per la riqualificazione delle scuole e degli asili, non abbiamo messo soldi per altro, quindi abbiamo messo soldi per scuole, asili e impianti sportivi.